Ciao a tutti amici, ben ritrovati a Jumpy, stiamo seguendo la partita Juventus-Lione, in questo momento siamo sul 2-1 e in questo momento la Juve è fuori e quindi non supera perché all'andata è stato 1-0 per il Lione quindi per la differenza reti, cioè nel senso il Lione ha accennato il gol fuori casa e quindi la Juve è fuori dalla Champions diciamo clamorosamente perché comunque la Juve si aspettava che il Lione comunque riuscisse a battere la Juventus o che comunque riuscisse a segnare allo Juventus Stadium comunque 6 minuti di recupero, la Juve può avere ancora un'ultima occasione devo dire che la Juve per come ha giocato il secondo tempo potrebbe meritarsi meriterebbe forse, in questo momento meriterebbe la qualificazione anche se ha avuto adesso la sfortuna di Dybala che comunque è un giocatore che per me è importantissimo per la Juve anche se comunque non è sempre decisivo non è molto decisivo onestamente, l'uomo più decisivo è Ronaldo e l'ha dimostrato negli anni ma stasera veramente ha preso per mano la Juventus nel secondo tempo e ha trovato lui questo gol del 2-1 secondo me è un gol eccezionale perché si è creato proprio lo spazio e questo gol è proprio tutto suo si, 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 anche io concordo in pieno con te perché Ronaldo con sonico in, punizione dal limite per la Juve, attenzione ha fatto un gran libro e poi il gol sotto l'incrocio ora vediamo punizione per la Juve in zona davvero molto pericolosa più o meno dei 17-20 metri ovviamente ho la maglia del Lione, no perché tipo per Lione, perché comunque c'è Juve e Lione la maglia della Juve non ce l'ho, quella del Lione, si, quindi l'ho messa e quindi anche perché è stato un suo regalo questa qui allora vediamo, Ronaldo si appresta a battere certo che non è la posizione ideale per Ronaldo, però ha già segnato da quella posizione beh, a Manchester United segnava solo da quel lato eh, anche col Portogallo, eh aveva fatto un bel gol sì, contro la Spagna però diciamo che da lì andrebbe meglio un sinistro secondo me se ce la può fare, ce la può fare eh barriera piena barriera piena, siamo in questo momento su un recupero di 2 minuti e quasi 30 secondi mancano 3 minuti e mezzo calcio d'angolo per la Juve più o meno quasi alla metà del tempo di recupero abbiamo corner per la Juve ricordiamoci che la Juve da palla inattiva è davvero devastante non va, contropiede per il Lione eh, ma adesso il Lione tiene palla vedi pallo molto dubbio sto pallo, sinceramente sì, onestamente è un po' la spinta però, spalla contro spalla eh, Ronaldo lì c'andava il mancino di Rivaldi eh, si è staccato ci andava il mancino di Di Bala comunque Sarri secondo me non è un... quest'anno la Juve vinto lo scudetto ma perché la Juve ha giocatori a 22 titolari questa è stata la vera differenza di quest'anno della Juve perché se no ci sono squadre che hanno giocato meglio la Juve questa Juve è brutta è una delle Juve più brutte degli ultimi anni cioè... super amante e c'era gente che si lamentava di Allegri eh, proprio nulla l'Elite prova eh, buttano fuori la palla ormai che siamo a 4 minuti di recupero quasi 4 minuti palla ad Alessandro siamo sulla tre quarti campo vediamo in questo momento la crozza al centro ma non è fallo quello dai ma non è fallo ma non è fallo come fa ad essere fallo cioè... il fisico di Delite è quello eh molto dubbio anche quello eh... non è fallo, dai vabbè ma non lo so ma vabbè beh l'altra volta eh ma era in aria, grazie quando uno è in aria lo tocchi quello cade per forza è giusto forza anche la Ju è qualcosa comunque i 6 minuti sono quasi finiti e la Ju è fuori Quadrato in questo momento è inquadrato è inquadrato eh... sta pregando García García è un allenatore che mi è sempre piaciuto anche quando era alla Roma e... devo dire che comunque nella doppia sfida comunque Lione no? sì, devo dire che ha giocato sempre bene sì, attenzione ora Dembélé anche se mai dovesse uscire comunque uscire Battista altissima eh sì perché... manca un ultimo minuto la Juve si gioca tutto 60 secondi per decidere questa Champions League ultimo minuto in questo momento vediamo se la Juve avrà un'ultima occasione l'Aleksandro prova a crossarla eh... spazzato via qui non posso proprio perché in realtà Bonucci Bonucci liscio assurdo poi i secondi passano e siamo già a 30 secondi che mancano ormai da giocare credo Aleksandro che si porta ma no guardalo dietro eh... bello il tacco per Ramsey vediamo Ramsey ragiona ma non c'è poco tempo per ragionare butta in mezzo comunque anche Bentancur bella partita però davvero molto falloso psicologicamente oggi Bentancur non c'è comunque il nostro ex Andersen ha ben figurato al momento si, 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 si sempre asoffensibile vediamo attenzione proprio l'ultima azione e la partita qua è finita la partita qua è finita siamo ancora non so perché l'arbitro sta facendo proseguire siamo a 6 minuti e 30 secondi vediamo Dembélé a Juve e Tiago Mendes vediamo cosa provano a fare ancora Dembélé la tengono lì ormai siamo a 40 secondi che passano la partita è finita il Lione incredibilmente fa l'impresa dell'annata incredibile incredibile passa il Lione ai quarti di finale incredibile incredibile e sicuramente di loro tutto il popolo bianconero Masticamaro hanno fatto vedere Di Balla ma tutti cioè dal presidente Agnelli ai giocatori tutto lo staff sicuramente anche Sarri che secondo me Sarri alla fine non lo so se lo vedremo il prossimo anno sulla panchina della Juve ti credo di cosa se parlava di di un ritorno di Allegri oppure che Allegri andava all'Inter e Ponte ritornava alla Juve Ponte alla Juve onestamente forse alla Juve conviene di più se insieme alla fine quello che ha fatto meglio la Juve è stato comunque Allegri eh almeno ha fatto due finali poi le ha perse vabbè ma lì ci sta e anche fortuna è stato sfortunato Allegri nelle finali però alla fine tanti si lamentavano parlo di di Fonte della Juve di Allegri si lamentavano di Allegri Allegri è un grande allenatore secondo me molto meglio di Sarri secondo me è un grande motivatore molto più di Sarri sì 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 ma molto di più eh ovviamente adesso Garcia festeggia e è così non lo so secondo me secondo me secondo me se la Juve segnava il terzo gol non avrebbe rubato nulla no però devo dire che nella doppia sfida il Lione si è dimostrato una grande squadra secondo me quindi anche il Lione non ha rubato nulla e alla fine diciamo che comunque partita equilibratissima tra due squadre sì comunque bella squadra il Lione ha dei giocatori dei giocatori molto molto interessanti Awar e Bembele Depay comunque Depay lo odoro Memphis si 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 sarà perché è la stella di quella squadra perché noi giochiamo a PES io lo odoro su PES quindi niente detto questo e quindi la Juve fuori vedremo cosa faranno le altre ovviamente si tifa per le italiane speriamo il Napoli possa far bene contro il Barcellona esatto ma soprattutto io quest'anno tifa Atalanta eh sarebbe chi non tifa Atalanta non è patriota sarebbe un sogno incredibile vedere l'Atalanta triunfare in Champions contro tutti questi squadroni però mai dire mai niente quindi commentate condividete iscrivetevi al canale mi raccomando un saluto da Giampi e da Marte ciao a tutti Ventus Lione tra poco con noi